Maglia intima in 100% tactile, tessuto idrofilo antistatico unico per vestibilità, morbidezza, praticità, leggerezza, comfort e traspirazione. La struttura capillare del tessuto consente una elevata capacità di assorbimento ed un conseguente trasporto del sudore verso l'esterno. Il trattamento antibatterico realizzato sfruttando nanotecnologie grazie all'utilizzo di ioni d'argento impedisce la proliferazione batterica, riducendo i cattivi odori e incrementando il comfort epidermico. Il capo è realizzato con tecnologia seamless, senza cuciture, con tessiture a rete su fianchi laterali oppure in versione estiva in sola rete. Il trattamento Silver Plus dona al tessuto un gradevole profumo con sensazione di igienica freschezza. Certifico che l'avviglamento pela da Baird Sensazionale. L'acqua è realizzata in TACTEL, un fabbrica antistattica, hydrophilica, unique per fit, softness, practicalness, lightness, comfort and perspiration. La struttura capillare del fabbrica garantisce una elevata capacità di absorzione e un conseguente trasporto della città verso l'interno. Il trattamento antibacteriale, realizzato da prendere avventura della nanotecnologia, grazie agli ioni d'acqua, prevengono la proliferazione batterica, riducendo le buoni buoni e aumentando il comfort epidermico. Il governo è realizzato con tecnologie semplice, con un netto in pannella, o, per l'esercito, in volnette. Il trattamento di Silver Plus d'acqua dà alla fabbrica un buon olio con una sensazione di freschezza eigienica. Certifico che l'avviglamento pela da Baird Sensazionale. Maglia intima in 100% tactile, tessuto idrofilo antistatico unico per vestibilità, morbidezza, praticità, leggerezza, comfort e traspirazione. La struttura capillare del tessuto consente una elevata capacità di assorbimento ed un conseguente trasporto del sudore verso l'esterno. Il trattamento antibatterico realizzato sfruttando nanotecnologie grazie all'utilizzo di ioni d'argento impedisce la proliferazione batterica, riducendo i cattivi odori e incrementando il comfort epidermico. Il capo è realizzato con tecnologia seamless, senza cuciture, con tessiture a rete su fianchi laterali oppure in versione estiva in sola rete. Il trattamento Silver Plus dona al tessuto un gradevole profumo con sensazione di igienica freschezza. Certifico che l'avviglamento pela da Baird Sensazionale. Underwear realizzato in tactile e antistatic fabric, hydrophilic, unique for fit, softness, practicalness, lightness, comfort e perspiration. La trattamento capillary struttura della fabrica garantisce un elevato abilità di absorzione e un conseguente trasporto del sudore verso l'esterno. Il trattamento antibacteriale, realizzato con l'avvento di nanotecnologie, grazie a ioni d'argento, prevede la proliferazione batterica, riducendo i bambini e aumentando il comfort epidermico. L'avvento è realizzato con tecnologie semplice, con un netto e un netto per l'esterno o, per l'esterno, in un netto per l'esterno. Il trattamento Silver Plus dona al tessuto un buon smell con sensazione di freschezza igienica. Certifico che l'avviglamento pela da Bert sensazionale.